Ladies and gentlemen, quest'oggi vi presentiamo un qualcosa di davvero epico su Minecraft Siamo riusciti a trovare una mappa che riproduce pinnacoli pendenti su Minecraft E quest'oggi abbiamo ricreato, sfruttando questa mappa, la modalità di Fortnite su Minecraft E io e Fere ci affronteremo E' bellissima Steph, cioè ci sono anche i bus col gelato Lo so Ma ti sembra? Però qui si li puoi distruggere facilmente C'è davvero tutto, se guardate bene, ogni posto messo nel punto giusto di tour Le montagne intorno sono replicate alla perfezione Per me è stata la cosa più assurda, devo essere sincero E raga, è perfetta Fra poco ovviamente la vedrete meglio, ma voglio prima spiegare come funziona Allora, Steph vs Fere Siamo in una piattaforma che dobbiamo far finta che è il bus, ovviamente In queste ceste c'è il glider, quindi il deltaplano E noi ci lancieremo da qua Ma io su Fortnite ho un bel deltaplano bellissimo Cioè qui è brutto, neanche si vede Fere, non me frega nulla Non si può shoppare qui un bel deltaplano Beh, guarda anche la tua skin che brutta che sei Quindi, beh, proprio, cioè non c'è nulla a dire Dov'è il tuo piccone con il lama, scusami? Non c'è qui, mi dispiace Vabbè, ho messo il deltaplano e vado, Steph Ok, no, non devi lanciarti, sto ancora spiegando Come no? Dicevo, quindi Prendiamo i deltaplani Ci lanciamo in un punto casuale di pinnacoli pendenti Ok E ovviamente in giro per la città ci saranno delle ceste Ci armiamo e ci affrontiamo uno contro l'altro Ok, Fere? Sì, sono d'accordo Andiamo? Sì, ci divertiremo un sacco Allora Muoviti, Steph Pronta? Sì Io non so dove andrò Tu non sai dove andrò Eh, non ne ho più qualità Ok Ok Allora Cerco di non seguirti Steph, che succede? Ah, ok Lo puoi togliere e rimettere Esatto, esatto È la mia tattica Ok Ah, ecco come funziona Bello Bello, bello, bello Cara mia Cara mia Io ho già trovato due ceste Allora Prima arma Delle bende che mi curano il 30% in 60 secondi Quindi ci vuole un po' per curarsi con queste bende Devo essere sincero Tutti questi proiettili sono miei Uh, Fere è morta No, tu sei morto, Steph No, sei morta Sei morto Allora Mi setupo pure l'armamento Come faccio su Fortnite Quindi mi metto lo sniper su quattro Questa Desert Eagle Che per ora ho Lo metto su uno Le cure su cinque Che mettiamo tutti insieme Anzi no, non posso Ok L'eltaplano Anzi l'eltaplano Ma lo tengo che può far comodo Per lanciare in altre parti Non si sa mai Cioè lo possiamo riutilizzare Ok Allora Da qua scendo E se riconoscete la zona Potete capire Non posso dire ovviamente dove sono Ma si riconosce la grande Guardate anche lì Che figata raga Ma dai Che succede? Steph Doppio pompa Ti farò l'headshot così No Io non ce l'ho Il fucile a pompa Ho trovato solo quello Che devo fare Due cesto aperto E c'erano due fucili a pompa Uguali Identici Che oltretutto Qua ricaricare è lentissimo Steph È lentissimo Ma io le ho ricaricate le armi Ah non lo so Perché te l'ho detto Cavolo Avrei avuto un bel vantaggio Ma Non ho preso i colpi Della Desert Eagle Ma davvero Ma Steph Che mi combini Ma davvero Ma come è possibile Che poi vedo la tua scrittina In lontananza Devi fare attenzione Perché tu ti stai muovendo incontro? No E allora cosa vuoi? Cos'è questa? Una mitraglietta? Vediamo Oh no Un bel AK47 Ottimo Allora Anzi AK74 Gli ho letti al contrario i numeri Anziché Cioè 74 Io ho roba molto cattiva Fere Ok Ho trovato una roba Davvero 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 Cattivissima Però vorrei anche un fucile a pompa Cavolo Fere ce l'ha io Non ce l'ho Eh perché io sono più forte di testa Vediamo cosa la trovo qua Sono più forte di testa Beh Beh dai Ok Accettabile Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Vediamo Ok Fere è ancora abbastanza lontano Per fortuna La prossima volta magari facciamo pure con i nomi nascosti Così viene anche più ansia È certo Secondo me Che c'è? Che c'è? Non avevo visto il nick Ti ho visto e basta Quindi almeno non l'ho barato Lasciami in pace Cioè ho girato un angolo E tu stavi correndo nella strada Tutto felice Pronta a morire Sto cercando il mio fucile a pompa Ok Ok Lasciami in pace Che ok Ok Ah Posso salire qua Steph a pinnacoli Quando si vede un player Lo si insegue E lo si uccide Guarda che finisci male Oh Oh Ti ho colpito? No Sei smiratissima Perché è smiratissima Quest'arma maledetta Ok Non prendere la K74 Steph è pessimo Ok Dove l'hai trovata cavolo? In una cesta Bellissimo Allora Ok queste sono vuote Perché le hai prese tu brutto disgraziato Quindi mi setupo così Così E così Perfetto Hai sentito? Dov'è? È sempre lì È il rumore della morte Cara Scappo Sei in pericolo Cara mia No per niente Ok Qua ci dovrebbero essere Delle Io non la vedo Io non la vedo Cioè sono anche in alto Ho un bel vantaggione Eppure non la vedo Eh sto andando a cercarmi qualche bell'arma a distanza Non queste brutte che ho Capisci Quindi sono in giro Ok Ok Allora come togli Facciamo così Luttare Che stai combinando? Eh ti cerco Smettila Smettila Dai un altro Desert Eagle Ma mi prendi in giro Prendi i proiettili Così tu non la puoi usare Eh smetti No Si fa così Nel gioco Quando non vuoi lasciare le armi Le prendi e le nascondi Capito? Ho capito Ma siamo uno contro uno Cara Non c'è bisogno Sì ma devi morire tu Quindi non mi interessa Quanti siamo Steph Non capisco se sei Mi interessa solo la vittoria Talmente lontana Che non vedo la tua scrittina Cavolo Non lo so Non riesco proprio a trovarti In nessun modo possibile Sto guardando dall'alto Sto guardando proprio dall'alto Volevo fare Capisci? No Che volevi fare? Mirare E invece ho sparato Terzo cesto di fila Un'altra Desert Eagle Ma che ho fatto Di male nella mia vita Sei particolarmente fortunata Porca miseria E molta fortuna no? Sono arrabbiatissima Dove sei? Stai provando a spararmi? Maledetto Non si può costruire vero? Ti ho colpito almeno una volta No Cavolo è smiatissima questa arma allora Quale hai anche tu? A K-74 Eh quella cappa strana È terribile Sì 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 O ripilante Probabilmente ti colpirai più facilmente Col fucile a pompa Ah ci puoi portare O col cechino Se me lo ricaricasse Però non me lo ricarica Quindi il cechino Non lo posso utilizzare Allora faccio così Fede sta venda a caccia Secondo me raga No Allora poi facciamo Tranquillo Steph No mio dio ho fatto una scemenza Mi sono dimenticato che non c'ho la regina di Minecraft E che hai combinato? Ho preso danni gratis Bravo Però mi sono tirato una bendina Ok Ok Ma corro più lentamente dato che ho subito danno Bellissimo bellissimo Cos'è bellissimo? Ho trovato una bellissima arma Che cos'è? Mi sono morto Steph Sei morto Dimmi che cos'è almeno La K-47 Questo è un bel fucile d'assalto E se non è smirato come l'altro È bello eh Voglio sistemare anche io le armi Come me le metto su Fortnite Così non mi confondo Ok Mi sono riuscito a curare con le bende per fortuna Dov'è Steph? Adesso deve essere velocissimo Deve essere velocissimo Prima che minuti Altrimenti sono fregata Porca miseria Aiuto 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 No io devo andare a caccia Perché tu ancora non hai il fucile a pompa vero? No io ce l'ho il fucile a pompa Ah ok Pensavo di avere un bellissimo vantaggio No tu hai il vantaggio sul fucile ed assalto Che per l'altro per la K Che è decisamente meglio Io ho un problema Con i colpi dello sniper Che non funzionano Ok Però per l'altro ha tu medikit E cura il 70% Bellissimo Che cosa bellissima Comunque i furgoncini sono troppo carini Che bellini Lo so Dove sei? Io non vedo dove sei Steph Sto andando a casaccio Perché ti vorrei uccidere e vincere Però non ti trovo Quindi è un problema Io sto rimando anche incontro Dove sei Steph Così tu non stai No io sto correndo Impavida senza paura Non me ne frega niente di te Hai avuto paura? No Hai avuto paura Fede? Per niente Per niente Dove cavolo è andata? Raga Elmo Allora Basta La distruggiamo La distruggiamo Lei lì Che mi cerca tutto il tempo Andiamo a massacrarla Ma porca miseria Guardate come le viene l'ansia Prima è tutta sbrufona No no l'ansia sto cercando di salire in un posto Non ci riesco Chi ti sta cercando? Inizia il rush di Steph Non funziona Basta 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 Sto perdendo vita e basta Ok Ti hai sentiato alle bende si? Quando perdi vita No io non so perché avevo una regen in più Cioè una barra in più di cuori Quindi rimango così anche per non avere vantaggio nel fight Ok C'ho proprio startato così Non ho preso nulla però Non so perché Vabbè Dove mai sarà Steph? Ti ho visto No cavolo Stai volando Brutto schifo Dov'è? Dove sei brutto maledetto? Dove sei? Senta Dica No non ti vedo Steph Dove sei finito? Non so dove sei Lo so Dove ti sei nascosto? Sto sfruttando il glider per fregarti Non vale Tecnicamente era solo per scendere Steph Nessuna la vedo Non hai un trampolino Non hai trovato un trampolino Non schifo queste armi Sto per piangere Ok Allora Assenti Steph La ricarica che ti porterà alla morte Aia Ok Aiuto Bendina 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 Funzionano Non mi ricarica Sì sì ricaricano ma lentamente Aia Con tu sei rimasto maledetto schifoso Non ti interessa Come si usa il medikit? Non lo so Non lo so usare Mi tiro un'altra bendina Dai bendina Forse non posso perché ho la benda attiva Nooo Fai schifo Due cuori cara Perché sono di nuovo qua Perché sono di nuovo qua? Sono rimasto con due cuoricini Però avevo anche una benda attiva che piano piano mi stava ricurando Ok Ok Uff Fere non puoi venire ad ammattarmi A quanto ti ho lasciato? No ovviamente Due cuori ti ho detto Te l'ho appena detto Ah non ti ho sentito Ma se tu lo stavo dicendo mi hai fatto anche ok Eh era ok per un'altra cosa Sì perché non mi ascolti Esatto non ti ascolto mai Ecco Opla Comunque è davvero forte utilizzare il deltaplano Eh sì Cioè sarebbe figo Fornette se avesse questa meccanica No vabbè sarebbe forse un po' troppo Cioè andresti da un palazzo all'altro Una modalità così sarebbe figa Mi piacerebbe un sacco Ti vedo un po' buggata Fere guarda il mio schermo Aspetta arrivo Steph Ciao No Fere Tutto a posto Steph Sto benissimo Non stai bene Fere Non lo vedi che sto benissimo Ci smetto di guardarti Comunque ci fermiamo così Se volete rivedere Fornette su Minecraft Ovviamente continueremo a cambiare la mappa Cambieremo le armi Continueremo a sistemarlo A renderlo sempre più simile a Fornette Modificando ancora certe altre cose Aggiungendo anche gli shield Quindi fatti ci sapere se volete continuare a vedere Nel caso lasciate tanti likes Qui sotto troverete altri video Sia di Fornette che di Minecraft Che di altri giochini Quindi cliccate qua sotto da qualche parte E direi che ci possiamo fermare così